All'ottavo Rally della Val d'Orcia il compito di chiudere la serie su terra 2016 e così sulle prove speciali senesi sono arrivati i verdetti definitivi. La gara valida anche per la seconda prova delle Challenge Race Day Rally Terra si era presentata agli appassionati con le migliori credenziali, visto che quasi 90 equipaggi si erano iscritti al rally. Due prove speciali Radicofani di 8,40 km e San Casciano dei Bagni di 6,68 km da percorrere tre volte per complessivi 45 km cronometrati. Questi in estrema sintesi i numeri fondamentali per consegnare gli ultimi verdetti della stagione, almeno per quanto riguardava il trofeo Rally Terra. Così svolte nel miglior modo possibile ricognizioni e shakedown, gli equipaggi verificati passavano direttamente alla cerimonia di partenza, prevista nel caratteristico borgo di Radicofani. Naturalmente non mancavano le dichiarazioni di alcuni possibili protagonisti. Sì, penso che comunque questo format è stato ben riuscito facendo due gare dell'italiano più tre round e quindi il prossimo anno, dando la valida al campionato, sicuramente sarà ancora un orgoglio maggiore partecipare, cercando sempre di vincere tutto quanto, ci saranno sicuramente anche molti più i pretendenti, quindi ben venga perché comunque, ripeto, fino agli anni dietro è sempre stato un bel campionato e quindi cerchiamo di tirarlo su a un ottimo livello. No, adesso è andata bene con la prima, però penso di non avere speranze cittadei, c'è della casa, quando c'è gente brava io mi limito, proverò a starci di vicino se posso. Noi partiamo per dare veramente al 100%, qui dovremmo fare qualcosa in più del solito, però vediamo, la gara ci piace, la conosciamo direi bene, proviamo ad azzardare anche delle soluzioni fin dalla prima prova speciale e vediamo. Ma proviamo, è la prima volta che la utilizzo, spero di trovarmi bene, purtroppo non ho avuto la possibilità di fare grandi test, quindi sarà proprio questa gara, una gara un po' di test per prenderci un po' di feeling e vedere come funziona la macchina. Il resto per adesso, dallo shakedown, mi sembra vada bene, speriamo di proseguire bene. Terminata la cerimonia di partenza, serviva un giusto riposo prima di una giornata ricca ed intensa, con sei prove speciali da disputare. Così il giorno successivo, nel primo passaggio di Radicofani, arrivava la firma di Luca Ölbling, in coppia con Grassi, su Skoda Fabia R5. Il veronese precedeva Luciano Cobbe, alla destra turco, in gara con la Ford Focus WRC del GPR Racing. Alle spalle del Trentino si piazzava Alessandro Taddei, alle note Gasperi, con un'altra Ford Focus WRC, ma del team Trico. Quarto in prova, Daniele Ceccoli, navigato da Capolongo, sempre al volante della Skoda Fabia Super 2000 del PR Racing. Quinto, Giovanni Manfrinato, alle note condotta, con una Ford Fiesta R5. Dunque, prime indicazioni che arrivavano e subito si presentava un altro banco di prova, rappresentato dalla prova di San Casciano dei Bagni, dove si registrava una prima reazione dei piloti al volante delle più potenti WRC. In particolare, Luciano Cobbe metteva tutti in riga, a partire dal secondo Alessandro Taddei. I due equipaggi si piazzavano in testa anche nelle Challenge Race Day Rally Terra. Terzo in prova, il bravo Gianmarco Donetto, alla sua destra Menchini, che dimostrava di stare in giornata al volante della sua Ford Fiesta R5. In questa speciale non si presentava il via Niccolò Marchioro e il suo navigatore Marchetti, a causa di una piccola pietra che entrava nel vano motore della Peugeot 208 R5 delle Power Car Team. Il danno era irrecuperabile, così si spegneva l'ultimissima speranza di un clamoroso recupero del Veneto nei confronti di Ceccoli. Proprio il San Marinese poteva allora iniziare i festeggiamenti per il titolo conquistato. Parco assistenza in Val di Paglia affollato e subito ripartenza verso la prima ripetizione delle due prove previste. Evidentemente nella circostanza Alessandro Taddei, già vincitore quattro volte in questo rally, rompeva gli indugi e così attaccava a fondo, vincendo entrambe le speciali. Risultato, balzava in testa la gara con un vantaggio di 3-5 nei confronti di Luciano Cobbe. Terzo si confermava Ölbling, primo nel trofeo rally terra. Nel frattempo proseguiva attenta la gara di Ceccoli, quinto nell'assoluta che già si prefigurava la festa finale. Da ricordare che Andrea Dalmazzini, in coppia con Ciucci, continuava a fare esperienza alla guida della per lui nuova Ford Fiesta R5, con anche un problema iniziale sotto forma di foratura che certo non lo agevolava nel proseguimento del rally. Mentre a proposito di problemi, si chiamava fuori Alessandro Nerobutto, che si fermava lasciando strada libera a Jacopo Trevisani, che così consolidava il secondo posto finale nel trofeo Twingo R2 Terra. In pratica mancavano alla fine due prove speciali, ovvero l'ultima ripetizione di Radicofani e San Casciano dei Bagni, dove si affermava Federico della Casa, alle note Pozzi, nella circostanza tornato al volante della Citroën C4 WRC, che anticipava per mezzo secondo Taddei e per 1 e 2 Ölbling. Stessa storia nell'ultima prova in programma, sempre con lo svizzero che arrivava davanti a tutti e dunque chiudeva al meglio una gara partita non proprio al massimo. In conclusione, Taddei gestiva al meglio la sua gara, che andava a conquistare per la quinta volta, mentre secondo si confermava il positivo Luciano Cobbe, che con l'importante piazzamento consolidava il primato nelle Challenge Race Day Rally Terra. Terzo assoluto e primo nel trofeo Rally Terra, il veronese Luca Ölbling, che conquistava alla fine il quarto posto in campionato, mentre alle sue spalle finiva Federico della Casa, che sopravanzava a un ottimo Gianmarco Donetto. Sesto posto finale per Francesco Fanari, in coppia con Stefanelli, alla guida della sua Ford Fiesta R5. Settimo Andrea Dalmazzini, che quantomeno portava a casa un'importante esperienza con la nuova vettura, una performante Ford Fiesta R5 della GB Motors. Ottava piazza per il neocampione Daniele Ceccoli, che naturalmente non aspettava altro che salire sulla pedana di arrivo a Radicofani per iniziare a festeggiare il titolo conquistato. Top 10, chiusa dall'equipaggio Diana Mini su Peugeot 207 Super 2000 e dalle sempreverde Bruno Bentivogli, in coppia con Cecchi, al volante della Subaru Impreza Gruppo N della scuderia Movisport. Sì, questa mattina siamo partiti con un po' di polvere e ci ha un po' penalizzato dal punto di vista cronometrico. Poi sono sistemate le cose, nel secondo passaggio abbiamo cominciato a prendere le misure del mezzo e delle prove e al terzo giro abbiamo cercato di concretizzare, quindi è andato bene, è una splendida giornata e è una bellissima gara vinta. Sì, è un buon risultato sicuramente, anche perché il Val d'Orcia non me l'aspettavo, è una gara ostica per noi, in effetti dicevamo sempre a noi non ci va più di tanto e oggi abbiamo fatto veramente bene, insomma, ecco, dopo logicamente tanti onori a Tadei perché lui è velocissimo, poi l'ha vinta già quattro volte, quindi adesso sarebbe meglio che si tornessi anche delle scatoli, uno un giorno o l'altro. Beh, no, meglio di così, sta gara non poteva andare, quindi siamo contentissimi, abbiamo vinto una gara del terra che è una grande soddisfazione per noi, abbiamo vinto anche una prova speciale, oggi assoluta, quindi meglio di così non poteva andare. Non è mai semplice affrontare una gara così, diciamo che si è messa bene dopo la prima prova quando purtroppo, devo dire, Marchioro si è fermato, quindi abbiamo potuto fare una giornata relax e aspettando sto arrivo perché comunque penso che tutta una stagione che lo affrontiamo e penso che questa vittoria nel campionato ce la siamo meritati in tutto l'arco dell'anno, comunque abbiamo fatto sempre delle belle gare e penso che io al capo abbiamo sbagliato poco, anche i ragazzi del team APA Racing sono stati formidabili perché comunque la macchina non ha mai avuto un problema, è sempre stato veloce, anche rispetto alle R5 che sono macchine più moderne, quindi adesso ci godiamo questo campionato che era un pezzo che lo cercavamo e finalmente è arrivato.